Ma no, ma che che c'è voi? Teati, 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 divi al Signo Dov una volta! Una croma che ha già visto, Teknikov il signor guadalara... Il croce da u courtyard. Terzo classificato a Todoist Pogaciar! Dalla provincia di Verona, Gareggia Perua e Team Emirates, Davide Formolo, premiano Davide Galimberti, sindaco della città di Varese e Laura Rogora, assessore allo sport città di Busco Arsizio, secondo classificato Davide Formolo, gentili signore e signori pubblico di Varese, al primo posto nella centesima edizione della grande Trevalli Varesine, Alessandro De Marchi, Team Israel, premia Mario Piffarerio, capo area, banco BPM, banco BPM, signore e signori, primo De Marchi, secondo formolo, terzo Pogaciar, partecipa ai festeggiamenti Renzo Oldani, presidente della società ciclistica Alfredo Vita Varese. Amici del ciclismo, al mio tre, solo al mio tre, un voato in onore di questo grandissimo podio, uno, due e tre! Primo De Marchi, maglia rosa in alcune tappe al giro, secondo Davide Formolo, che è stato campione d'Italia, terzo il vincitore di due Tour de France e un Tour de l'Avenir, Tadej Pogaciar!